segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sì ma biden parlava a una convention del suo partito e diceva ragazzi non facciamo come letta e gadlerner perché sennò perdiamo le elezioni cosa assolutamente legittima ho letto anche questo effettivamente che è colpa degli antifascisti se torna il fascismo vedi a sentire gad sembra che essere di destra sia un reato al mondo esistono le destre e le sinistre poi hanno varie declinazioni i conservatori e democratici i tori e i labu esseri di destra non è un reato però gad va oltre dice attenzione che la destra ha originato anche il fascismo che è una delle tante destre possibile non è l'unica destra è una delle destre attenzione la sinistra ha generato anche il comunismo che è una delle grandi tragedie del secolo scorso dove insomma i regimi comunisti sono stati tra i più feroci e tutto nessuno è mai venuto in mente quando da lemma è diventato presidente del consiglio dire ma tu sei stato comunista quindi qui mancherà la libertà eppure da lemma era uno che era sceso in piazza a favore di pol pot beh il tuo ex editore diffuse in decine di migliaia di copie il libro nero del comunismo in quei giorni comunque no voglio dire mi piace mi piace l'impostazione che era a favore dell'invasione abbiamo avuto un presidente della repubblica che era a favore delle della è stato a favore dell'invasione dell'ungheria e fu anche tra quelli che condannò morte ma questo continuo linkare con una parte del passato che non è tutto il passato è una parte del passato chissà perché vale solo per la destra per la sinistra il passato non conta allora io penso che il passato non debba contare né per la sinistra né per la destra siamo nel 2022 io penso che debba contare moltissimo per entrambi vedremo cosa farà vedremo come sarà capace di governare questa destra ma io non sento in giro per il paese un timore di perdita della libertà ma questo è il punto no quale quale meloni avremo quella vicina alla Thatcher o una meloni più zona evita per on perché questo noi lo possiamo dire oggi noi dobbiamo aspettare quello che sarà ma no Grazie a tutti.